Aldo De Crignis, è durato un anno, anzi meno di un anno il purgatorio. La Normac, prima dello stop per l'emergenza coronavirus, stava volando verso la B2. Una promozione che è stata confermata a questo punto dalla federazione si riparte dalla cadetteria, insomma una cadetteria in cui la Normac Alta Valbisagno ha tenuto alto standardo di Genova per tantissimi anni. Sì, erano 11 anni che eravamo in B2, l'altro anno purtroppo abbiamo avuto un'annata un po' disastrosa da tutti i punti di vista. Siamo retrocessi, quest'anno eravamo primi in classifica, eravamo imbattuti, quindi c'erano tutte le premesse per un ritorno in B2. Poi purtroppo la pandemia ci ha bloccato e la federazione, devo dire giustamente, ha riconosciuto il valore delle società che stavano giocando in campionati regionali e quelli nazionali e quindi siamo stati promossi. Stiamo lavorando per mettere insieme la formazione che possa fare una bella figura nel prossimo campionato nazionale di B2. Abbiamo un nuovo allenatore che è Gerry Grotto, che è audiovato da Paolo Pampuro, che è anche lui un uomo di grande esperienza, che ha già lavorato in Normac, come Grotto è stato il nostro ex giocatore. E quindi insomma il presidente Mangiapane e tutto lo staff dirigenziale sta lavorando proprio per mettere insieme una formazione che possa ben figurare, tenere alto il nome della Normac anche nel campionato prossimo di B2. Non solo il vertice, che è sicuramente importante, ma anche una base, quella di tante giovani che è la Normac da sempre fa giocare, ha un investimento importante nel sociale e soprattutto dopo questi mesi così complicati, credo che sarà da settembre in poi una bellissima gioia per tante giovanissime tornare in palestra. Allora noi con tutte le ragazze, anche della prima squadra, ma con tutte le ragazze delle giovanili e anche quelle dei centri di minivoli stiamo facendo degli allenamenti online. Ieri sera ne ho fatto uno con le mie bimbe di San Gottardo e adesso speriamo di riuscire a ripartire anche con le piccoline all'aperto, per esempio fare degli allenamenti in modo tale mantenendo il distanziamento sociale con tutte le procedure. Roberto Maragliano ha fatto il corso da Covid Manager, quindi la società si è attrezzata proprio per sanificare la palestra, per prendere tutte le precauzioni necessarie, per fare gli allenamenti in totale sicurezza.